Buongiorno da Monbello Signore allora oggi mare? Sì sì certo, oggi a mare Però non avete un po' paura, tutti sono un po' vicini Non ce n'è covid, non ce n'è covid, non c'è niente In che senso non c'è niente signora? Non c'è niente, è finito tutto, a Palermo non abbiamo niente, dov'è il mio questo? Però sai che potrebbero tornare i contagi, dobbiamo stare attenti A settembre, a settembre ci chiudiamo tutti a casa Ma le mascherine ce le avete? Sì dammi la mascherina amore Signora, ce l'avete la mascherina o l'avete portata comunque? Sì sì, ce l'ha mio marito Marzia vieni qua Perché sai che se vi avvicinate poi la dovete indossare Certo State attenti Ok va bene Grazie